Sì, ho capito che sei una ragazza a casa di Nellinia, sì. Scrivimi l'indirizzo in privato, almeno per una volta faccio il colliere. Pure una sfugliatella a questo punto. La signora, come ho il cornetto? No, mi amo, ci piace la graf. Comunque la mia colazione di domani mattina, Federico, ha 140 calorie. Ciao, di dove sei? Di Napoli. La bomba al cioccolato, ma ero un amico, vaga un euro. E che è l'aria? Ci accontentiamo. Possiamo mangiare di più o di più? No, è normale. Se eravamo più vicini, te lo portavo tutte le mattine il caffè cornetto a pistacchio. Ciao, bene. E Federico, ci mangiate prima mattina? Ho pane che muoce. E' un'altra domanda. Una zip. Alla zona. Ma è bene? Non posso fare un po' la pagina? Federico? Ciao, Maurizio. Non mi devi chiedere. Che cosa? tanto se non me lo scrivi tu te lo mando io ti mando Maria De Filippa ci posso saperti di me per mezzo di 140 calorie, ma che cosa? ma però mi stai rispondendo senza geni, no no Federica che cosa? la colazione è te lo meriti? Gesù mi, no no che, ma allora io mi sto capendo voglio sapere, e te l'ho fatta vedere la mia colazione di domani mattina, si sta bloccando, aspetta devo cambiare rispettami su come se l'ha fatta ieri mamma, cos'è di mamma, il mio sito è in frigo, ma si sta bloccando, aspetta non ho, tempo che si riprende, ma stamattina non è che non me lo sentite voglio, se poi si blocca, te le pigliate, ok, comunque ho detto, la colazione è quella che si fece mamma ieri sera, le fette biscottate, il fette a misù là, con cacao e tutto, kiss aspetta a misù, bravo e perché è un bici nuone? no, la pastocchia, ma qua la pastocchia, tutti buoni non ci piace, se non fa mangiare voi ma no, meglio che le gocce, ma infatti le gocce non le ho mai mangiate mamma non ci piace, punto, non è che se la mangiare forse Fede comunque voglio capire una cosa, ma nel couscous devo mettere per forza altre verdure se metto qualche altro, il couscous devo mettere per forza altre verdure se metto qualche altro, buonasera puoi metterci il pollo, perché mi sono rimaste altre fettine di petto di pollo, in realtà rinunce la tua mamma, come viene... rinunce la tua mamma, come viene... rinunce la tua mamma, come viene, rimane madina, porta colazione alle otto e mezzo allora a posto, ah ok, no, potrò fatta, couscous, pomodorini e pollo a me piace quello giallo, il petto di pollo, non ho mai assaggiato, però non fassi i smorfi quando mi leggi mamma, stai a puzzurre un deno, buttate la sigaretta, roba un poco e adevacu casa, adevacu a stendia, ora non potete mai venire mamma 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 Non è lo toccato, non è lo bloccato Anzi, non è lo silenzio, aspetta Sì, perché non sobbisco Ma come c'è Ma scrivo sempre le stesse cose Buonasera a tutti Ti dà fastidio il fumo tantissimo Ogni ora uno tenendo il cuore Non voglio fare quello Ma io si scherza Comunque ragazzi, voglio darvi altre condivisioni, grazie